Benvenuti, ben ritrovati a questo canale, al canale sottoscritto, che sono lo scrittore volante. E come sempre, come avevo promesso ieri, avrei fatto la recensione video, ma prima l'ho scritta sul mio blog, lascio il link in descrizione. Iscrivetevi a questo canale, mettete un like, un commento, mi raccomando, mi raccomando. Io sono scrittore volante, faccio video da 300 anni, no scherzo. E oggi andiamo in una specie di passato presente, dando il annunciato ritorno dai sottotono, con originali Mastroianni. Vi faccio una confessione, però non vi do a nessuno, anzi, non va a fare una cosa. Pensavo che fosse il titolo dell'album, ma in realtà era solo il titolo del primo singolo e pensavo fosse uno scherzo del destino, per cose che non vi dico e non vi dirò MAI! Adesso andiamo alla seconda! Signori, andiamo, senza fare troppi lunghi video, andiamo proprio alla sostanza, perché tanto se volete sentire l'album lo dovete andare a sentire senza che lo faccia sentire io. Questo è una specie di REACTION! Come dice qualcuno, come diceva qualcuno REACTION! E quindi siamo qui a metterci la faccia e a dire che questo disco è una specie di salto temporale tra il presente e il passato. Quindi adesso siamo in una specie di futuro ritrovato, perché ci sono delle canzoni come la mia preferita è i sottotono. Chi sono i sottotono? Mi sono dimenticato! Ma chi ho mai fatto a non saperlo? Tormento e Big Fish, i sottotono sono tra i padri del rap italiano, del pop italiano, facevano una musica più leggera e insieme a, per me, insieme a Neffa, Colle del Fomento, Corveleno, Chaos One, Furono, tra l'altro. Effettivamente, se voi avete presente questa musica, sapete benissimo che è un pochino... Cioè, sono divi totalmente diversi, come potete aver notato. Questa musica è più romantica, diciamo più commerciale, più pop, che però è bellissima lo stesso. Vogliamo andare a solo lei a quello che voglio, in cui c'è il buon Tizianoferro? E il buon Tizianoferro mi è sempre piaciuto. La sua voce è splendida! È meravigliosa! Andiamo a dare assolutamente un ascolto, signori! Niente male, il buon Tizianoferro! Il buon Fontanofenno! C'è il buon Que Pequegno che ovviamente non ci ha deluso. Non ci ha deluso quando mai la ci ha deluso, a me mai. Non del tutto, non così, non troppo. Questo è Mark Esch. Signori, questo è un remix, una riedizione dei vecchi pezzi del sottotorno, che hanno appunto ripreso e in alcuni casi sono diversi. Questo non dico che è meglio l'originale, dico che è bello quasi quanto l'originale, o quanto l'originale. Poi c'è Amor De Mi Vida, dedicato alla madre. Alle madri, quello che preferite, no? Questo penso che sia Mahmood che canta il ritornello. Vabbè, comunque vi dico che ci sono molti pezzi molto romantici, molto leggeri, che l'hip hop assume anche queste cose leggere. Del resto negli anni 90 c'erano questi pezzi un po' più leggeri, non sempre hardcore, non sempre conscious rap, non sempre roba di strada, gangsta, non sempre roba riflessiva, anche roba un po' più leggera. che fa come fa parte di tutte le musiche, fa parte anche dei pop, è che, minchia. Un po' più ricabbe, ma non per questo assolutamente, assolutamente meno bella. Io mi annuncio Amore con Coezze, mi è piaciuto moltissimo. Una delle mie preferite. Scusate. 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 non posso farvela sentire tutta, nonostante su YouTube c'è gente che la mette anche mette canzoni pur non essendo assolutamente ma lasciamo perdere andiamo a Croisi 2021 in che mi è piaciuto anche questo, un casino c'è Fabi Fribbra, c'è Fabi Fribbra è Primo Brown c'è Fabi Fribbra è Primo Brown e Fabi Fribbra che di solito non mi piace qua, cioè c'è Fabi Fribbra è una specie di alternanza, mi piace o non mi piace, è un po' strano però qua signori è qua, devo farvelo sentire assolutamente che non uso bella cupra, ce l'è piaciuta un casino questa la mia preferita è diventata la mia preferita, già mi piaceva Croisi 2012 nel 2012 questa signori è non so se avete sentito bene, spero di dire, non caso mai signori, vi ho fatto sentire i miei pezzi preferiti e ho apprezzato questo ritorno mi auguro che non sia finita qui perché Tormento è uno dei migliori che ho mai sentito e Big Fish è un produttorone e non solo con lui, non solo con i sottotono in generale in generale sono stato contento di questo ritorno e ripeto, musica un po' più leggera ma ci sta, ci sta assolutamente e io dico uno o altro veramente da dire che l'odi veramente da dire che l'odi a questo specie di passaggio temporale signori, fatemi sapere la vostra se l'avete sentito, se avete avuto le mie buone sensazioni come ce l'ho avuta io assolutamente bella roba e tanti complimenti e mi auguro e ringrazio pubblicamente Big Fish e Tormento e mi auguro di poter rivedere e di poter ascoltare un altro pezzo un altro album che non sia finita qui che non sia solo una cosa temporanea ci vediamo alla prossima, buona giornata